Chiedo dov'è la popolazione di Seriate, a prescindere da colori politici, destra, sinistra, bisogna stare vicino a noi farmacisti in questa zona, visto che neanche dopo due giorni dalla rapina, stamattina c'è stato un altro spiacevole incidente. Quindi chiedo proprio a tutti dove sono a sostegno di noi che svolgiamo questo lavoro rischioso.